Silvio Garofalo, responsabile degli incappucciati. Siamo qui alla chiesa di Santa Maria del Pianto per la processione di domani sera. Anche quest'anno ci sarà l'undicesima edizione della Via Matris e della processione degli incappucciati. Ormai è diventata tradizione della nostra città, giovane ma col tempo stiamo crescendo anno dopo anno. La Via Matris è un momento di preghiera, di fede che sarà condivisa con tutta la popolazione e percorrerà le vie del quartiere. Uscirà dalle ore 20 la processione della chiesa Santa Maria del Pianto, ovvero quella via Purgatorio e percorrerà la piazza Luigi Palomba e le strade adiacenti. Per poi ritornare nella chiesa del Carmine con il rientro dove ci sarà l'incontro tra la stato della addolorata e il Cristo. Ogni anno vediamo che c'è più partecipazione, ci stanno contattando anche da fuori torre per chiedere informazioni, quindi anche per i curiosi è un modo per avvicinarsi alla nostra processione e alla nostra preghiera. Ci saranno le sette stazioni che non sono altro che i sette dolori di Maria. Gli incappucciati porteranno in processione i simboli della crocifissione di Gesù e ci saranno delle donne che porteranno alle stazioni, ci sarà la Veronica che porterà il volto di Gesù. Il gruppo è molto attivo anche sui social? Siamo molto attivi anche sui social. Abbiamo una pagina Facebook incappucciati dolore del greco, abbiamo la pagina Instagram e siamo anche su TikTok per farci conoscere appunto per riuscire anche voi dal territorio. Ricordo l'appuntamento domani sera, venerdì 29 marzo, ore 20, dalla Chiesa Santa Maria del Pianto. Salvatore D'Amico, uno dei collaboratori del gruppo di incappucciati, ci saranno inoltre tante novità quest'anno. Ci sono delle novità quest'anno, abbiamo dei bambini che si aggiungeranno alla processione, avranno delle vesti bianche. Questa scelta è stata presa per portare avanti questa tradizione e per far sì che questo gruppo cresca sempre di più.